attenzione donato ne ha distrutto uno questo è quello che ci attende stasera che è il compleanno di mio papà ci edilizia lui stasera così ah che cavolo fai cosa appoggia? non sei capace? facci vedere come porti i tre piatti stasera non si beve vino? no che si beve va se non è la mia storia su qua oh la la ma che fai ingrassare? perché l'ingrassi? no perché io ho pigliato i tuoi su cosa? su chi è il letto? quale sarà il regalo di papi? c'è un regalo? c'è un regalo? oh l'attesa l'impaziente è l'attesa chissà che chissà? una burger? che sarà chissà? questo è tutto? scusa? no si vieni vieni attraversa ci facciamo di qua amore sei bellissimo il carallo in mano ciao amore si sta comodi? che si dice dalle tue parti? ah insomma con il bandanale eh si si sta comodi con uno spartiatto in mezzo amore la macchina più grande? no ahahah sono negative al posto dei cereali misura integrali ti consiglia? i cereali, gli integrali fitness, Neslè. Ti consigli?